Benvenute e benvenuti su questo canale e all'inizio di questa nuova rubrica che abbiamo deciso di avviare insieme a Gloria. Mi presento un attimo, sono Alessandra, sono una pedagogista, mi occupo di apprendimento per i bambini della fascia della scuola primaria e di consulenza pedagogica a genitori e a professionalisti dell'educazione. Qui con me oggi c'è Gloria. Ciao Gloria. Ciao, buongiorno a tutti. Se ti vuoi presentare? Anch'io come Alessandra sono pedagogista, mi occupo attualmente principalmente della prima infanzia e sono esperta nei disturbi dello spettro autistico. Benissimo, Gloria, diciamo anche in che zona siamo dell'Italia, visto che non siamo nella stessa zona. Io sono in Piemonte, su Torino principalmente, mentre tu? Io sono in Lombardia, Como. Ok, allora, noi abbiamo, in realtà collaboriamo da un po' di tempo e abbiamo deciso di avviare questa piccola rubrica che abbiamo chiamato snodi educativi, nella quale ci piacerebbe parlare di tutti quegli argomenti un po' non modosi, un po' annodati, che creano un po' di difficoltà spesso in noi adulti, quando dobbiamo spiegarli ai bambini, perché sappiamo bene come i bambini siano estremamente curiosi e facciano tantissime domande, alcune delle quali ci potrebbero un po' spiazzare. Abbiamo deciso di raccogliere alcuni dei temi, dei nodi che sono capitati principalmente a noi nel corso della nostra esperienza professionale e che riguardano tematiche come la disabilità, la morte, la sessualità, la guerra e la nascita di un fratellino e di una sorellina. Quindi nel corso di questi video, che vedrete poi pubblicati nelle prossime settimane, ci piacerebbe andare un po' a snodare questi nodi, partendo un po' dal presupposto che ai bambini si può parlare di tutto. I bambini non sono una cosa strana alla realtà, non vivono nel loro mondo, vivono nel nostro mondo, hanno relazioni con persone che li circondano, i loro genitori, la loro famiglia, gli amici, la scuola e si osservano ciò che accade attorno a loro, si rendono conto se c'è qualcosa che cambia e si fanno sempre tante domande. E' quindi molto importante accogliere queste domande anche se potrebbero darci un po' di... Oddio, adesso come glielo spiego questo? In tutto, non so poi Gloria se vuole aggiungere qualcos'altro, mi verrebbe da consigliare a tutti gli adulti, genitori, educatori, insegnanti che hanno a che fare con i bambini, se si trovano spiazzati, in fronte a questa domanda magari proprio anche prendersi del tempo e spiegare al bambino che quella è una cosa talmente importante che anche un grande ha bisogno di tempo per pensare a come potergliene parlare. E poi un altro elemento secondo me molto importante che a me Gloria piace tantissimo e sul quale abbiamo già lavorato molto, farsi aiutare anche da alcuni strumenti come gli albi illustrati. Nei prossimi video noi vi proporremo degli albi illustrati che abbiamo scelto e che vanno a supportare la comunicazione con il bambino, non sostituiscono l'adulto, cioè prima che diamo l'albo in mano al bambino e diciamo ok, questa è fatta. No, è uno strumento che serve prima di tutto a noi adulti perché ci possa dare un supporto nel capire anche banalmente le parole che possiamo utilizzare per parlare di una certa cosa ai bambini e poi come supporto proprio nella creazione di un momento con il bambino, quindi dedicare a queste importanti domande dei bambini un momento di condivisione e di costruzione anche di una nuova scoperta. Non so Gloria se vuoi aggiungere tu qualcosa? Allora sì assolutamente, innanzitutto ecco noi abbiamo individuato questi snodi che sono per noi significativi, ma se qualcuno nella sua professionalità invece si è scontrato con altre questioni, vi chiediamo magari di segnalarcelo in modo tale che possiamo poi cercare di affrontare anche quello in un altro momento. Assolutamente d'accordo con te e il potere un po' dell'albo illustrato è proprio questo, quello di essere uno strumento che supporta la relazione, il momento magico della lettura tra l'adulto e il bambino. Non solo ci aiuta, ma può anche diventare il punto di partenza per nuove domande, nuove riflessioni da parte del bambino. E ovviamente con il supporto di una storia già scritta, già narrata, riusciremo magari un pochino più facilmente a rispondere appunto alle loro curiosità e alle loro domande. E può anche diventare il punto di partenza per nuove domande e nuove riflessioni che nascono appunto dal bambino. Grazie ad una storia già narrata relativa appunto ad una particolare tematica, l'adulto potrebbe trovare le parole più giuste per rispondere appunto a queste curiosità e a queste nuove domande. Mi verrebbe anche da aggiungere che la potenza dell'albo sta non soltanto nelle parole, ma anche nelle immagini. Cioè è proprio una comunicazione per il bambino su più fronti, cioè a partire da più canali. Quindi è per questo che crediamo fortemente in questo strumento che è bene utilizzato. Già lo scorso anno avevamo fatto un webinar dedicato proprio all'albi alla mano quando i genitori si separano. Quindi sullo specifico momento della separazione genitoriale come poter comunicare ai bambini che cosa stava accadendo. Proprio perché come ho detto all'inizio di questo video, ai bambini si può parlare di tutto e in alcuni casi è davvero importante spiegargli che cosa sta accadendo. Sì perché sono parte comunque attiva nel caso della separazione che abbiamo affrontato lo scorso anno della famiglia ed è giusto quindi che con le dovute parole, dovuti modi, siano a conoscenza di quello che accade in famiglia. Il potere delle immagini, aggiungerei, può far sembrare più vicino un amichetto, una persona che si conosce che magari si trova in quella particolare situazione e si possono trovare delle analogie con quel protagonista di quel particolare albo che il bimbo conosce. Benissimo, allora noi vi invitiamo a seguire i video che arriveranno, per qualsiasi cosa vi lasciamo i nostri contatti sotto nella descrizione e se avete domande, se volete proporre dei nodi appunto che avete vissuto lasciatevi pure in un commento così che poi chissà potremmo prenderli e farci una puntata dedicata. Vi ringraziamo per ora per averci seguito in questo video e ci vediamo nei prossimi.